Ancora una squadra sovietica, la Torpedo di Mosca che ha battuto lo Stoccarda per due reti a una. Va in vantaggio la squadra sovietica, proprio nei minuti iniziali, al secondo per la precisione, con Vasilev, la squadra sovietica in maglia bianca. E qui vediamo l'azione del pareggio, che è operato per lo Stoccarda da Dieter Enes, non è Uli Enes ma è Dieter Enes. E il primo tempo finisce per 1 a 1, nel secondo tempo il gol della vittoria della squadra sovietica, della Torpedo di Mosca, sullo Stoccarda, il gol viene realizzato al diciassettesimo, eccolo da Sakharov. Torpedo batte Stoccarda 2 a 1.